compriamo il cimbum grana è bella a tutti averli trovati come al solito io sono Fefè finché non arriveremo a questi benedetti 500 tu sei Fefè ho detto sono Fefè si tu hai detto ok sono rimasto al vecchio video facciamo hashtag cocò cambiato sesto sono rimasto al vecchio video con la parrucca che ero donna sono cocò finché non arriveremo ai 500 iscritti in cui faremo le nostre presentazioni quindi dateci questo piccolo supporto lei è la vera Fefè che non è vero nome più che altro vorremmo chiedervi scusa per chi ci segue che da un po' che non ci facciamo vedere sentire anche perché noi abbiamo avuto un po' di problemi con il lavoro non è che abbiamo avuto problemi siamo impegnati con il lavoro e altre sorprese perché man mano quella è vera detto ciò? detto ciò no oggi faremo questo piccolo qua di Unis e li proveremo vedremo un po' quello che riusciamo a fare deve essere divertente non vedo l'ora di provarlo quindi buona visione ragazzi guardate, guardate l'acqua e poi ve lo faccio vedere l'altro basso di video è finito oltre si è concluso tutto apri dai cotechino a a a a a a a a Adesso ci studiamo un attimo se funziona. Dopo un'ora e mezza che abbiamo perso per capire un po' come funziona la pompetta vi presentiamo una piccola mascotte avvicinate di più magari non si vede fatta da lei e ora vi faccio vedere un attimo un po' come si realizzano. Palloncini? No perché sono spenti, sono sgonfi. Queste cosine qua che sembrano supposine sono i palloncini, abbiamo rosa chiaro, viola, viola, gialli, viola, azzurro e gialli. Poi abbiamo degli occhi, occhi grandi, occhi piccoli, bocca, ali, code, tentacoli, zampe, vecchi. Qua abbiamo per poterli attaccare sul vetro e questi qua invece servono che non si vedono con trasparenti per attaccarli tra di loro. Infatti, se vedete, io dico se vedete ma non si vede, l'ho messo qua sotto che poi volendo lo posso attaccare a un altro. Attaccata di fronte. Vediamo. Non si attacca. Non si attacca. Non si attacca. Ok. 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 Vediamo un po'. Ora ne realizzo uno io e poi ne realizza lei. Il problema è che c'è solo una pompa. E niente, uno per ora. Io lo faccio tutto. Va messo con il fondo all'interno. Accastato bene. Vai vedere? Poi si tiene schiacciato. Si mette dentro la macchinetta. Si gira. In testandolo. C'è disegnato l'ucchietto aperto e l'ucchietto chiuso. Verso l'ucchietto chiuso. Si tira in basso qui che c'è disegnato anche qui un lucchietto. Praticamente sale un'ago del che è della pompetta. E poi si iniziano a darle compatte. Io lo faccio al massimo. Tolgo l'ago. Vuoti, apri. E il palloncino è fatto. Guardate. Io lo faccio al massimo. È una gomma che diventa un palloncino. Non può essere. Non può essere. È una gomma che diventa un po' lancino. Non può essere. Ho messo così. Ho messo molto gravidi. Gravidi. Io faccio un occhio piccolo, ma grande. Allora. Mi sa che l'ho messo anche qui. No, l'ho messo qui. E' storto. Va bene. Tendilo così e poi spingi in fondo. Spinge, spinge. Poverito. No, è storto, amore. Scusa eh. Prima ti ho fatto i complimenti, l'hai fatto te. Eh. Eh. Ma mi ricordo già più classica. Ok. Gira di là. Il trucchetto è chiuso. Sì. Eh. Tira giù. Perché non può? Ti devi dare lì la pancolata. Ate a scegliere. No. No. Non ci fai. No. Chi che cosa? Eh. Il trucchetto è il tuo. No. Non lo fa. È così che mi piace. E tu avevi scritto? Sì E mi metà anche un po' di domicilio ecco la mia piccola opera d'arte ha tre occhi, una pinna, un'ala, un'acqua d'ariccio ha due piedi che sembrano due pugni col guatto da box il mio è una sottospicina di progetto da su mica e prendiamolo così no ma mi è caduta la pinna con l'antenna aspetta aspetta questa collina non mi piace la pinna è il mio più bello ah signori se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like spolliciate, commentate qual è quello più carino il mio e ci vediamo al più presto con un nuovo video un grosso saluto e abbraccio da Fefe e Cocò e dai piccoli Umis detto ciò ci vediamo alla prossima ciao 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 a tutti ciao a tutti cioè noi abbiamo salutato poi te che poi ciao a tutti e il bacio non lo mandiamo siamo andato